Il caldo improvviso ma ben accolto di questi giorni lungo gran parte della penisola ha incentivato le persone a spostarsi sulla costa in questo fine settimana. L'attività turistica è pronta ad accogliere i viandanti. In Molise già il primo maggio si sono verificati numeri positivi, gli stabilimenti balneari sono attivi. Per quest'anno ci si aspetta una vera ripresa a seguito di lunghi periodi di chiusura e paura a causa del virus. Dopo un lungo periodo di campagna vaccinale possiamo finalmente tornare a vivere le stagioni estive in sicurezza. La seconda domenica di apertura si presenta buona per chi vuole trascorrere piacevoli ore in compagnia. Forse per i primi banni è ancora un po' presto ma fra qualche giorno ci si potrà davvero rilassare spiaggia. In questi giorni è anche arrivato il riconoscimento per Campomarino come zona di qualità grazie alla bandiera blu. Per Campomarino è il decimo vessillo consecutivo, Termoli invece resta a bocca asciutta come era già successo dal 2018 ad oggi. Niente riconoscimento anche per Montenero di Bisaccia e Petacciato. Al via anche il turismo verso le isole Tremiti, luogo di grande interesse. A partire dall'estate 2022 infatti ci sarà una novità, sarà possibile prenotare la villa di Lucio Dalla a San Domino. Grazie.